È partito da Piombino in località Perelli il sopralluogo del presidente della regione toscana Enrico Rossi in alcuni tratti dei 34 chilometri di litorale toscano devastato dalle mareggiate di fine ottobre che rischiavano di compromettere la stagione balneare. A sei mesi di distanza dal disastro, con un progetto di ripascimento da 14 milioni e mezzo della regione e dopo le intese con i comuni colpiti, i lavori sono in buona parte conclusi. A Piombino è stata riprofilata la spiaggia con il movimento di 60.000 metri cubi di sabbia lungo il parco della Serpaia nel golfo di Follonica per oltre 1.353.000 euro. Quando siamo venuti fino a ottobre dell'anno scorso era un disastro, la spiaggia non esisteva più qui come da tante altre parti della Toscana. Abbiamo promesso che saremmo intervenuti, abbiamo messo 14 milioni. Nel golfo di Piombino e all'Elba c'è circa la metà dell'investimento fatto, presso che ovunque i lavori con i comuni o con il Genio Civile sono partiti, abbiamo dimostrato di fare seriamente le cose. Mi faccio apprezzare anche i responsabili degli stabilimenti balneari, che come vede anche qui hanno ricostruito. Quindi può partire una bella stagione balneare in Toscana per questa estate. Seconda tappa del Presidente Rossi a Roccamare, a Castiglione della Pescaia. Anche qui i lavori per 800.000 euro sono quasi terminati. Interventi conclusi anche a Massa, Cecina, Marina di Bibbona, Follonica, Marina di Campo e Porto Azzurro all'Isola d'Elba.